Avanti! Salute donna Lucia! Eh, calma! Salute! E calma, si, è una parola con quello che mi hanno combinato. I vostri signori fratelli, dove stanno? Allo qua! Dove? Ah, ecco lì! Ah! Vi siete lotti la testa? E vi sta bene? Ma insomma, che cosa è successo? Eh, cosa è successo? Il terremoto, la bomba H! Queste signorine si sono messe a giocare con il trattore e mi hanno sfondato un muro! Cominciamo a mettere i putti sui lì. Noi siamo persone serie, non ci mettiamo a giocare con i trattori. Se è capitata questa disgrazia, è capitale, è successo, perché questo disgraziato mio fratello, non è esperto della guida, ha voluto toccare una leva e è successo il pata-pratta. Comunque, noi che colpa abbiamo se il muro non ha retta d'urto? Eh? Quello è un muro marcio! Il muro non era marcio, era un muro solidissimo. Comunque marcio, non marcio, me lo dovete pagare. Eh, va bene, va bene, chi ha fatto il danno pagherà, eh? Eh, paghiamo, paghiamo, queste che roba è! I fratelli di Capone hanno sempre pagato, ha capito? Oh! A quanta molti ti hanno? A quanta molti ti hanno? A quanta molti ti hanno? Mi lasci parlare a me? Che sono il maggiore? A quanta molti ti hanno? Un milione. Mi dovete dare un milione. Un milione? Daivi questo milione, non mi fanno di più sta mezza capo davanti a giochi. Ma che sentiamo? Mi devo un milione e mezza capo. Allora una... Una capa intera, quanto costa? Un miliardo, ha ragione. Una capa intera, quanto costa?